posizionati a terra con le braccia tese e le mani alla distanza delle spalle ora alza le anche finché il corpo forma una vicapovolta le braccia e le gambe devono rimanere il più distese possibile da questa posizione piega i gomiti ed abbassa la parte superiore del corpo finché la parte superiore del capo tocca a terra rimani per un secondo quindi spingi con le braccia di nuovo la posizione di partenza di capovolta con le braccia completamente distese